Puntata numero 14 o se preferite la prima delle ultime quattro del girone d'andata. Nella domenica in cui le antagoniste della prima della classe faranno il tifo per il Picerno, avversario nel derby lucano della capolista potenza, Altamura e Cerignola saranno impegnate proprio al pari della regina dell'aggruppamento in trasferta. I Murgiani, secondi in classifica e reduci da sette vittorie consecutive, misureranno le proprie ambizioni d'alta quota a Francavilla in Sinni a partire dalle ore 14.30. Il Cerignola, a meno sede alla Betta, proverà a riscattare alla stessa ora il mezzo passo falso interno con la Cenerentola Alto Tavogliere San Severo, affrontando a Volla il Pomigliano. Due sfide non semplici per le pugliesi che meglio di tutte stanno facendo nel campionato di Serie D, ma al tempo stesso per nulla proibitive. È proibitiva invece la missione che attende lo Sporting Fulgor di scena a Canosa, sempre alle 14.30, contro una che avesse lanciata verso l'ottavo successo di fila. Non ci sarà più in panchina Fabio Prosperi. La sua permanenza alla guida dello Sporting è durata in pratica due sole partite, entrambe terminate con una sconfitta. Punta a ritrovare la via del successo, che manca da quasi un mese, invece il Gravina, che affronta alle ore 15 al vicino una Turris in chiara difficoltà morale dei Murgiani. In netto rialzo però, dopo il pareggio strappato in extremis sul campo della capolista Potenza, il Taranto inoltre proverà a rialzare la testa e lasciarsi alle spalle lo scivolone di Cava dei Tirreni, affrontando allo Iacovone il Gragnano, Nardò, Manfredonia e Derbi, l'unico pugliese della quattordicesima giornata, tra due realtà reduci da successi rigeneranti. Completa il programma delle nostre portacolori, l'alto tavoliere Sansevero, che inseguirà nei 90 minuti casalinghi con la Versa, il primo successo in questo campionato. Testa al campo per tutte dunque, poi le attenzioni si concentreranno sull'apertura della sessione invernale del mercato.